Dove siamo arrivati? L'altra volta abbiamo abbattuto un boss che in realtà è morto da solo, cioè è caduto ed è morto, quindi vabbè Ce ne dovrebbero mancare due, i più forti dell'associazione, ma non è detto nulla, anche perché c'è un imprevisto La sorella del protagonista è scomparsa e noi dobbiamo ritrovarla Intanto la pistola, questo esserino che teniamo in mano, ci vuole parlare, non so di cosa E il ventilatore si è spostato di nuovo Se non ho il ventilatore puntato, io mi scioglio Cioè è letteralmente impossibile Ok È finito? Minchia? Ok Allora, dobbiamo andare nei bassi fondi Comunque siamo solo con quest'arma, dovremmo avere, sì abbiamo anche il coltello in realtà Gli altri fucili, le altre pistole, non so come chiamarle Gli altri fucili, le altre pistole, le altre armi le ho lasciate sul divano Perché lui ci ha chiesto di lasciarle lì, voleva che andassimo da soli per qualche ragione Salve Trova Lizzie È imbarazzato, continua a parlare di cose senza né capo né coda Non so cosa ci deve dire però sono un po' preoccupato Allora noi dobbiamo andare di qua Oh boy Ok, so that dying Gatleon that we saved, let's do it Let's see if we can fix him up and, you know, back alive The thing is Oh, ok, sorry, sorry I'm just trying to figure out how to say this properly Or, you know, like communicate How we normally do, right? You know, the Gatleon we saved, let's do it He knows some things about me that the others don't know Allora, l'altra arma che abbiamo salvato L'arma parlante abbiamo salvato l'ultima volta Che ha subito esperimenti Quindi Stai zitto E che quindi Era tutta a mezza Tipo Non connetteva, no? Che va riparata Apparentemente lo conosce E sa cose di lui Che lo imbarazzano Cioè, le due armi si conoscevano Però non arriva il dunque Ma che cazzo hai fatto? Ma parla e basta Mi sta mettendo Un hype assurdo Per sapere di che deve parlare Ops Ok, adesso però ti stai ripetendo Sta dicendo le stesse cose Ok, Applebeats È di qua Sì, sarà una cosa stupida Rapidissima, infatti Sarà una cagata incredibile Salve Ah, è proprio un vero e proprio locale Cioè, nei bassi fondi C'è un locale così elegante Uh, in realtà Stiamo chiedendo se qualcuno Niente di Twig Sto lavorando oggi Non è stato fatto per un spazio Scusate Ti stai vuoi una cagata? Um, sai cosa? Sì, magari questo è un buon spot Per parlare Uh, sì Sì, ci andiamo a sedere Ok, ci andiamo a sedere Ma si può muovere lui? Ma inquietantissima sta cosa Non lo sapevo Vai, dimmi Spiegami Ok, grazie Sì, il tuo pianeta è stato Tipo distrutto È stata colpa sua È stata colpa sua Ok, posso vedere che sei a una cagata Che sei a una cagata Sì, io, 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 io Sì, io, io, io Sì, io, 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 io Sì, io non sono la unica razza Che il G3 invadono Gatlas È solo la unica razza Uh, come si è a un'altra cagata Uh, è solo la cagata ma devo mangiare insalata di gambe italiandese un bel filettino i'm the strongest gatlians who ever lived and i i got him killed in his dying moments i told him everything like i'm telling you now about how i left gatliss to pal around with a criminal how i led garmantius and the g3 right to our planet how i got everyone killed except let's do it survived somehow the g3 must have kept him alive to try to utilize his power god if we can really bring him back did you see my problem right like i'm gonna have to tell the other guns what i did you know or else he'll tell them all right i'm back hope those tummies are ready for some yummies bon appetit dude take a fucking hint can't you see we're in the middle of a thing here emotional thing uh you know this is important baggage shit we're dealing with here take a hint and get out of here for a second uh uh someone's feeling grumpy oh wonderful now what the fuck is happening outside lizzie don't follow us twig and i are in love and we're going to travel the galaxy in his space army actually this is moving kind of fast help me please that sentence we're in love ok we got to get to them ma non ho mangiato un cazzo comunque cioè no in realtà era una cosa serissima quindi la pistola abbiamo trovato potrebbe svelare la verità su di lui è qui oh shit yeah we can't dine and dash i love this place don't want to get blacklisted in realtà non volevo pagare che palle vabbè ormai è successo oh fuck ok this this change is shit this is bad e mo e perchè ci sono dei nemici ma che volete i'm here live in downtown blue city where as you can see we've been invaded by violent and agitated g3 cartel forces no one can say for sure why they're here we're here to kill you bounty hunter ha 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 ah ok well there you have it looks like this is only a problem if you are that bounty hunter that they're trying to kill i'm people fuckerton blim city news stay safe out there but it's very random something hey uh so i've got some more men and you did a good job with all these bounty hunting rights you really were so i made some new commercials with you and them to drum up more business and well let's just say they had your house's address listen now the g3 knows where we are so they're attacking the house oh no hanno scoperto dove siamo get back there quick or they're gonna kill me and the other guns my man is fucking dead as if it couldn't get any worse ma se tipo io me ne sbatto e... pusho ma come aia ha davvero ha detto aia che cazzo di moa che reazione è sta morendo vabbè si si ragazzi io mi dispiace ma qua me ne vo non tornare a casa semplicemente no ok andiamo dritti al sodo evitiamo tutti questi nemici che ci romperanno i coglioni per 40 anni abbiamo appena lo so abbiamo appena evitato penso 20 minuti di shooting ad alieni stupidi andiamo 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 dobbiamo salvare jean ma come pure qui sono ma il cazzo son finito ma ti prego che è che parla? chi è che parla? eh adesso ci vado sta casa non romper i coglioni o ma quelli non li devo sparare aspetta c'è di tutto si si beh evitiamo tutti evitiamo tutti entra oh no jean è stato attaccato oh no jean è stato attaccato grazie per tornare da me non avevo non è il tuo culo no no non è il tuo culo è il tuo culo è il tuo culo ma ci riusciremo con questo per favore uscire il corpo di warp ci siamo recupera le tue pistole vai che è il plan? sì il warp è pronto ma possiamo andare con il G3 non seguirà io avrò posso prendere il manovra di Hennison in mid warp per le giuggerle? posso guardare? ti faccio questo? mi vuol dire scrambole il warp? ok sì scrambole il warp scrambole il warp bounty hunter mi portami al warp core qui dobbiamo andare eh non ho capito fai Zeus grazie per i sei mesi ben tornato attiva il nucleo di teletrasporto questo qui è sì guarda 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 8 6 2 1 3 5 0 capital g w capital e 4 5 6 7 capital 5 8 9 2 1 7 4 2 2 2 6 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 1 1 8 8 7 4 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 12 10 10 10 10 11 12 15 20 16 16 No, ma io voglio andare. No, vabbè, niente. E si va a riposare. Oddio, dove l'ha messa la pistola? All right, tu finalmente è up. All right, let's get back to it, I guess, you know? I hope Gene has a lead on Lizzie. Let's go. Yeah, look who finally decided to wake up. You know how late it is? Because I don't. There's no sun on this dead rock of a planet. By the way, I got your little sum-sum. A new suit upgrade, extra overshield. You're welcome. Grazie, che cos'è? Oh, sono più fico ora. Let's get to business. I've got something you'll like. You can breathe easy. I'll get right to it. I tracked down Lizzie's bio-signal. Oh, that's great. So she's alive. Don't worry. But she's on the move. Probably on our ship, so we have to act fast or we'll lose her. If you're ready, just step through the portal door. Ok, dobbiamo andare a trovare nostra sorella. Ah, così, subito. I don't know what I want. Ok, fine, I don't know either. Isn't the sex good? I don't know. I can't even tell if we're doing it right. We're aliens. None of our shit even lines up correctly. You could be pregnant and I would fucking wonder how that happened. My tongue goes all over outside of your body. Well, ok, I don't know if it's good either. Your body is really confusing. God, I'm just so confused. Aren't we in love? You're asking me that? Dude, you're the one who dragged me out on this trip. I wasn't looking for anything serious. I just wanted to get laid. But even that turned out to be some weird fucking Hellraiser puzzle. Oh, shut up. Don't blame this on me. There's plenty of ways you could have figured out how to use my equipment, so to speak. Hey, sorry to interrupt. Oh, yeah, thank God. You came just in time to save me. Me is who you came to save. Thank you. Fuck your sister, dude. Woo, cuckoo. Girls, am I right? Love is tough. What the fuck are you doing here? Uh, I don't know. We were a little worried about you. Oh, God. Everyone needs to chill out. When have you smoked? What, you're a smokers now? Wait, what is it? Camels? Marlboro? 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 What's it to you? What do you want? Allora, eh, torna a casa. Well, I don't want to come home. It's not even my home anymore. It's Jean's Jack-Off mansion. And it's your little clubhouse where you can unwind for a few minutes between bouts of, oh, I don't know, murdering criminal gang lords. Hey, I'll go home. You can take me home. How about that? I'm your new sister. Congratulations. Just give me the fuck out of here. No, you're staying, Tweed. We're in love. Say it. Say we're in love. Okay, never mind. I can't go. I have to be in love with your sister. Look, I hate to be insensitive, but it's dangerous out in space for humans right now. We even got chased out of Blimp City by the G3. Whoa, really? Yeah, it was rough. Listen, I get that there's a lot right now that's bothering you, but can we convince you at least to just come home with us and figure it out there? But I'm busy being in love with Tweed. Uh, yeah. We're busy. Sorry. So just leave. Unless. What else were you worried about? Ma che cazzo di situazione è? Vabbè, senti, attaccati il cazzo, ce ne andiamo. Beh, hold on. Maybe I'm not happy. I mean, how do you know I'm happy? How does anyone know they're happy? How does the person know they're happy? Oh, che palle. Am I happy? She's not happy. Non posso sparare a lui e basta. No, eh? Devo dire per forza che posso aiutare. Oh, sì? Come? Non mi interessa, torna a casa e basta. Sì, come se tu mi lasciarmi fare questo a mia propria? Tu hai già deciso di diventare un ufficio alieno che cazzo di ufficio. Non stagliare a te stesso per essere un ufficio di ufficio. Uh, sì, non è un'ottima, ma sei un po' di ufficio, dweeb. Hey, solo io posso parlare con loro in questo modo. E guarda, mi sono scusa di ti fu fuori qui. Sì, non mi è. I know you didn't want to. Ma just, I wanted to know for sure if we worked or not. Oh, yeah, it's cool. I forgive you. I just think, oh, oh, really? Even after forcing you to leave with me? Yeah, okay, it's fine, yeah. Did you know I almost sold you out to the G3? They were offering, like, a lot of pesos to find out where you were. And that would have been way worse. What the fuck, Twig? You piece of shit. Cioè è lui che ha snitchato la nostra posizione Raga io non posso andarmene da qui non ci voglio stare Sparali e basta Ce l'abbiamo fatta Ce ne stiamo andando Perché non puoi spararli Non è niente Wait, you really think you're gonna be able to fix them Yeah, yeah, I'll probably have them all patched up by the time you get back You're serious? That soon? Yeah, don't worry about it kid Your friend's gonna be just fine Old Papa Gene watched a bunch of GooTube tutorials e ora sa il suo cammino verso la cybernetica! Sì, 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 è fantastico! È, 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 è... Che? Non suono troppo felice. Sai quanto hard ho lavorato per salvare questo ragazzo? F***! Ok, credo sia ora o sempre, bounty hunter. Puoi mettere le altre piste per me? Real quick! Basta! Non posso neanche andarmene. Sì, Jin alla fine è un bravo ragazzo. Secondo me potrebbero finire insieme loro due. No. Scherzo, non ci starebbe molto bene. Però... Non è così malaccio. Idra, non so cosa sia successo. Fai un report. Buonasera, Flame. Ehm... Vai. Tu sei troppo inquietante, non ti voglio inquadrare più. Ma... Questo è... molto più tuffo da pensavo. Sì, s***alo! No, io... Non posso capire! Tu sarai amaremi! Dad, ma non abbiamo segreti! Siamo una famiglia! Beh, guarda. Potrei decidere di amareli. È ok, Kenny, tu puoi dire. Oh, proprio diciamolo! Ok, bene. Se non lo ascolti da me, tu sarai solo ascolti da Less Do It when he wake up. Ok, cosa se ti chiedi di dire che è il motivo di G3 in Gatlas. È il motivo di G3 in Gatlas. Ma... 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 No, no, no. That's not it, I... Oh, this is all sorts of fucked up, Kenny. I don't even know what to say. See? I'm not the biggest fuck up here. Not now, dude. Everyone, please. I'm sorry. I'm so sorry. I didn't know what I was doing. We're so close to taking down the G3. Let's just... Oh, ok. Let's just pretend you're not the reason everyone we know and love is dead. Yeah? Sure. Easy. Done. What's next on the agenda? Forgive Garmantuous 2? Come on. That's not fair. Fine. I'm sure we can all figure this out. No, Creature. He can't just drop that bomb on us and expect everything to be the same. I... I'm sorry. Look. I hate to be this guy, but we're running out of time. Nipulon may not stay where he is for long, so... I know things aren't... Ideal, but... Yeah, 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 yeah. We'll finish the job. And then you're out of our lives, Kenny. Come on, Sweezy. You don't mean that. Just pull yourselves together for this mission, at least. You're professionals. You're bounty hunters. Act like it. Mhm. Fine. Okay, yeah. Gather everyone up. It's time to get back on track. Nipulon just flew back into his drug lounge in Port Terrain. So we've got a strike now. Can you handle that? Let's just get this over with. Povera pistolina. Cioè... In realtà... Nel senso... È colpa sua, è tutto, però... Mi è dispiaciuto. Lui si chiama Let's Do It e in italiano l'hanno tradotto come Famolo. Vabbè. Per un piccolo errore è odiato da tutti. Chissà se avrà la sua redenzione in qualche modo. We just need to sneak into Nipulon's lounge. Let's try... Can it traitor. We'll handle this one. We don't want you selling us out. Can you do us all a favor? And sit this one out? Hey! Stop fighting! I hate it when everyone is fighting. We need to talk things over. In a healthy way. No, 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 no. We just need to cover ourselves in Goop again. It's not complicated. That's true. We should do that. But I also think we need to have a really fun time at the saloon. So go there first, please. Oh, whatever. It's up to you, County Hunter. Head over to Drek Town and get Gooped up or try hashing this out at the saloon. Anyway, in questo pianeta ce l'avevamo già stati. Vittori di melma, risolvi da questione di saloon. Allora andiamo prima di qua. Ce l'avevamo già stati, un po' mi dispiace che i pianeti si ripetano. Ah, ma devo entrare qui? No, questo è il portale da cui arrivo Ma basta, poi! Ok, qua Ti ricordi di me? Salve Non si ricorda Bentornato, Fukuro Grazie di quattordici mesi Oh, no can do, partner See, my little gooper trooper, you're as sick as can be Looks like he's not gonna make it Truth be told, I don't think he'll ever be gooping anybody ever again Unless we get him that medicine Medicine? Maybe we can help Oh, no way! Thank you so much! Wow, that's so nice of you There's a special flower over there On the other side of Tureen Ravine But good luck getting over there Because that ravine is Terrain through the valley If you know what I mean Those damn mac and cheese brothers Are taking forever to build the bridge I mean, if you can get them to do their jobs Then maybe we can get the flower And save my little gooper Don't worry, we got it We can do it Well, shit I don't want to give my hopes up But thank you so much Ok, quindi dobbiamo andare nel lato ovest di Old Town Che non ho idea di dove sia Ma Immagino No No Hey, you want to see my Kenny impression? Huh? Um, um Can you stop by the G3 headquarters real quick So I can sell out all my friends? Kenny's still our friend No, it's fine Let him go nuts Wait, I can do one, too Oh, uh Nobody loves me and I suck I'm a piece of shit A big dumb sicko who loves getting everyone killed Here's mine My name is Kenny Oh, I'm sorry for what I did I love you all very much And I'll never do anything bad again Ever I'm a piece of shit They kind of were assholes Yeah, they were big fucking assholes But I miss them Can't miss a fucking bro Hey, 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 whoa, whoa, bust What are you doing? Walking on this is a live construction site Very dangerous You can't hang around here Unless you're a construction professional Like one of us mac and cheese brothers are I'm a piece of mac and cheese brothers are Okay, so you're not leaving, are you? You're just fucking barging in What do you want from us? Hey, we're just trying to look for a way Well, tough luck You think you own the world? You want to get across the ravine? You got to wait for us mac and cheese brothers Brothers to do our work Yeah Yup Come on, you're telling me There's nothing we can do No, sorry, pal Listen We got our own emotional shit right now You know, we're on strike Until Papa Mac and Cheese Brothers You know, he comes back from that Goddamn saloon in Old Town And he tells us he loves us Mac and Cheese Brothers His sons You want us to get your dad to love you? All right, listen And we just need to hear that he loves us That's it We're not working until we find out, okay? No, mamma mia Stiamo creando 3000 sotto quest Quindi devo trovare il papà di questi tre stupidi Hey, we're the Mac and Cheese Brothers Yeah, you can't do shit Si trova di qui in realtà Quindi è vicino Come si entra? Da qui insieme? Uh, sorry Does anyone know where we can find Papa Mac and Cheese? Papa Mac and Cheese Hey, you can be able to help us We're trying to find a Papa Mac and Cheese Ma che cazzo? Perché è uno pericoloso? Eh, hai visto tu Hai visto Papa Mac and Cheese Papa Mac and Cheese E niente Ma perché? Eccolo, è lui per forza Hello, I'm sorry We're trying to find a Papa Mac and Cheese You might be able to point us in the right direction? Hey, you there Yeah? I'll tell you where Papa Mac and Cheese is If you duel this guy What? No, not me Please, pick anybody but me, please Huh? A duel? Okay, you know what? Listen, whatever We'll do it You know the rules Stand five feet apart Count to three Then draw Last man standing wins to fuck a duel Come on, man I don't want to do this Come on, it'll be fucking fun Ok, ci sto Devo duellare con lui? Quindi come Ma tu come la tieni la pistola, scusami Non voglio saperla What's the matter with you? Perfect Here we go then Gizzo I'll count you down Shoot each other on fucking draw, alright? Three Alright, we got this Two I believe in you I think One Fucking draw Whoa That's a quick trigger finger you got there, fuckface Oh, thank you Is he gonna be okay? Oh, yeah, he's dead But it's fine We hated him He's a fucking piece of shit Anyway Sorry about all that I was just fucking with you It's fun to do a whole big ten shootout thing, you know? Yeah, we love it Anyway, I'm Papa Mac and Cheese Brothers What can I do you for? Oh, uh, we met your kids over at the construction site Oh, is that so? Yeah And how are those good-for-nothing pieces of shit doing? They just sent us here to get the confirmation that you love them That's it But I hate them They're shit heels They ain't fit for the Mac and Cheese Brothers name Wait, are you What? You don't really want us to tell them that Yeah Tell them I said I hate them And I hope they all fucking die Now leave the fuck alone Uh, okay I guess that's that then You are You're a tough guy Papa Mac and Cheese Brothers No, come on Would you stop with the killing for a bit? No, okay, lui no E quindi? Aiuto Eh Ma che cazzo li dico questi? Salve Eh, papà Papà ha detto che vi ama tantissimo Sì, sì, ha detto così Sì sì, ha detto così Oh my God, I'm freaking out you guys He fucking loves us, you hear that? He, papa, papa loves us God, I can't handle whatever I'm feeling It is, it is, it is, it is, it is this love? Is this what love is? Oh God, I can't handle whatever this feeling is Is this, oh my God, is this love? Jesus, this guy's deep therapy But hey, looks like we can cross now Are you kidding me? We're gonna fucking have to deal with getting killed now Who knew we could just make a bridge with love Oh, they got all the work we could have saved, you know? Oh, fuck Ma non è morto Allora, tu resta Fai il ponte Mi raccomando Ciao, sì sì, ci rivediamo Presto, ciao Ma cosa sta succedendo? Adesso devo procurarmi questo fiore Ma questa questa è stranissima Ma che stiamo facendo? Ah, sei back Mi spiace ma non posso lasciare i testimoni Oh, ma che fai? Stai scendendo, che cosa che ti prendi le ponte, tu lunatico Oh, stai lasciando Ok Ma perché parlano se sono morti? Vabbè, ok Bello, bello È stato molto istruttivo quello che è successo Oh, shit Ok cecchino dove sei questo vabbè ce lo fottiamo ok ora torniamo dal venditore di melma perché il fiore che ho raccolto può curare la sua macchina della melma oddio non l'avevo visto ma che cazzo ma lo smelmatore è un alieno e quindi tipo ti caga addosso che fa ha detto letteralmente che siamo ricoperti di merda bello ok si si non ci non ci vedono siamo smelmati come loro quindi tutti questi soldati sono sono coperti di merda praticamente interessato oh le siamo entrati salve quindi stiamo andando a raggiungere il penultimo boss forse mazza che lentezza ok this is going well just keep our cool and sneak our way through oh no i rinforzi ma poi perché si chiama tetto lon io ho paura di cosa stiamo per vedere ma questi ma questa è la razza dell'alieno che è il boss che succede sono incastrato ok devo andare da questa parte oh no si stanno mangiando gli umani ma che schifo che schifo ma che schifo gara non no questo è diventato davvero inquietante la missione dice adattati quindi devo stare al gioco mi sto a tipo in stai bene questi cosi sono tipo sell si succhiano le persone 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 si beh non l'ho preso mezza volta va bene ma siete sicuri che io debba stare qui a far sta cosa si devo eliminarli tutti per potermene andare probabilmente ancora no madonna oh no il cecchino se vuoi adesso bestemmio non voglio rifarmelo please prego oh no penso sarà un casino ma come ce n'è un altro no 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 Scecchino? Dove? Ok Ho finito Oh finalmente Vai salvali 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 Non sta niente Ok dove andiamo? Devo salire lì Ok come ci salgo? Vediamo se me lo fa fare Non me lo fa fare Fermo Ok no Easy All I'm going to do right now is kill Nipulon and stop the G3 Everyone else can just fuck off These little guys barely even count The G3 payroll must be fucking a million miles long I mean Jesus Never should have joined up with the bad guys E muori Ti prego basta nemici non ne posso più Sono davvero troppi E ora che dovrei fare esattamente Qui? Non lo so eh No 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 E come ho uno di vita ma scusami Mi sembra un po' ingiusto Ok Allora Come? Ah qui ci andava Non l'avevo visto Giustamente Ma ti prego basta Il coltello quando si allunga troppo sembra soffrire A volte sembra che si diverta A volte sembra che soffra Qua Fermo E ora vai qui E ora vai su Oh finalmente Ma che fa quello? Ma perché ci twerka in faccia? Il coltello No Non fa mai discorsi con le altre armi Non so perché Cioè in realtà è della loro stessa specie Ma non lo considerano mai Almeno da quello che ho capito Cioè forse non è la stessa specie Cioè forse non è la stessa specie Ma concettualmente sì Cioè forse non è la stessa specie Cioè forse non è la stessa specie Ora posso sentirlo! Posso salvare? Benvenuti Bounty Hunter! Sono Helen Posso solo chiamarti BH? Non lo so! Nipiolan ci vedrai in breve Cosa... Posso prenderti qualcosa? Helen? Cosa stai facendo qui? Sì, continui a muovere tutti i miei boss Quindi devo continuare a trovare nuovi per lavorare Perchè prendersi un santo per un momento Buona idea, restiamo i piedi Abbiamo qualcosa che arriva qui Ma ascolta, ma vaffanculo Ma perchè devo aspettare? Cosa? Cosa stai facendo? 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 Sarecchi il luogo Siamo solo parliamo il G3 E poi non dovremo mai vedere un'altra volta Noi freddi Noi freddi Noi freddi Noi freddi Noi anniversari Niente Non è quello che vogliamo Non è quello che voglio È quello che voglio Mi spiace un po' per il povero Kenny Mh 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 Tettolon Chissà perchè si chiama così eh? Non sembra un combattimento molto comodo questo Chissà Non bello Ah Ho le spami molto bene Oh no, ci vuole... ci vuole il drogare. Oh, sembra che è davvero un'altra cosa. Buongiorno. Ah, mi sento davvero strano. Oh no. Ho preso male. Oh mio Dio. Non diventerò come te, Ginny. Che presa male. Ecco. Sto andando sempre più in basso. Dobbiamo fermare il G3. Benvenuto, Burn. Grazie per la sub. Ok, abbiamo fatto andare via Gin apparentemente. Con chi devo parlare, ma... Lo smelmatore, no. Ah, devo andare in profondità. Vai! Ritorna in vita! Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ci sono solo le droghe per essere vendite e vendite? Beh, è come funziona, moron. È un cerchio di vita. Siamo solo facendo il miglior. Sei male in evoluzione, non noi. Sì. Qui, Dan. È un po' di me. Ci sono tantissimi di loro che erano uno di loro davvero. Sì. Sei tu quello vero, sei tu, sei tu. Ti ho visto. Ha un colore diverso quello vero. E mi spara. Sì. Ma si vede quale sei tu, si vede tantissimo. No, no. Oh, no. Oh, oh, since Lizzy's here... Do you really think you're doing this to save humanity? You do realize you're just playing the hero, right? Everyone else is dying, but you get to run around space with your little toys pretending to be the savior of the universe. You're not a hero. You're selfish. This is all about you. You're selfish. Si tratta di salvare l'umanità. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. I mean, I don't know anyone else who's doing anything to stop the G3. This might actually be, it might be the right thing for you to do. Oh, my God. You, you really are humanity's only hope, aren't you? Fuck. Another hole. What is this? The hit indie game Donut County? Which I highly recommend if you're playing this right now. But, you know, pick it up. It's sometimes on sale. How you doing? Need some motivation to keep going? How about an award? Here, take this one that says you spent all your in-game play time at an alien strip club. Oh, that's permanent, by the way. Okay, everyone on your list of friends can see that forever now. Ma che stai dicendo? How are you holding up? Faceing some dark truths? Maybe things are a little confusing? Well, I'll make it clear for you. You're our broadcasters! And I'm helping you learn your place! What are you doing? They're everywhere! I see you, I see you, I see you! I see you, I see you! Hey, here's a hack for you. Ma come le schifo di ste robe? Si sta scrivendo qualcosa è totalmente a caso, eh? Sia chiaro, non so che cazzo stia succedendo. Ok. God, you're really having a rough go of it. How much longer can you hold on to your sanity? Looks like you're having enough trouble, just keeping your little band of hero guns together. Where did everyone go? Bounty Hunter, where are you at, buddy? Oh, fuck my head! Oh no, I'm all alone again! Oh, Bounty Hunter! I'm literally so happy to see you again! You have no idea! I was for real freaking out! Oh my God, you found me! I was freaking out! I was worried! It was worried I lost you! There's my buddy! There we are! I was on the fence for a minute there, but deep down I knew you wouldn't leave me behind. About time? How did you manage without me, huh? Oh, great! Another blank void! How the hell do we get out of this? Kenny, 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 what is it now? I... I don't know! Oh, Kenny... I'm sorry, all right? I'm sorry, I let everyone down. I was selfish and stupid and I beat myself up for it every single day and I'm so glad I found all of you because you've given me reason to live again! Oh, Kenny... Well, don't get all mushy about it. I just... I just... I just want to make things right. You can! We all can! Well, to be honest, I'd given up on everything before you guys came along. Before I found all of you! But now we're a team! And we're unstoppable! God damn it! He's right! You... you mean... you mean it? Yeah, dumbass! We've all made mistakes! I mean, not Kenny-level, planet-wide genocide mistakes, but... We've all made mistakes! And there is no way we're letting your big... big fucking mistake keep us from taking down the G3! So let's kick some fucking ass together! Yeah, that sounds good! Everything they just said sounded really good and smart! I love you all so much! You're the first real family I've ever had! Except for my little kids I spawned and shoot at bad guys! And the family I probably had before the G3 fucked with my brain and ruined all my memories! Let's do this bounty hunter! As a family! Thanks everyone! Let's fucking do this! All right, that's it! I'm gonna erase all your game data now! I can do that, it's easy! You'll have to start all over! Here we go! Are you ready? Ma come... Okay, that worked? No? You're still here? I don't actually know how to do that. Never mind, forget this! Ma quindi esiste anche uno strip club? Non stavo scherzando? Oh, la madonna! What are you doing?! You're supposed to be firing against a gun! Not for you, stronger! You shouldn't have anything! I don't think it's a real dark shit! Most people can't handle this! Stop fighting back! You're supposed to be dirty compared to me! Eh, ma sto morendo! Figa! Non mi sembra un buon piano! Non mi sembra un buon piano! No! Non mi sembra un buon piano! Non mi sembra un buon piano! Non mi sembra un buon piano! Oh, sì! Ce l'abbiamo fatta! Sì, è stata una bella mattanza Ok, la coordinate di terra dovrebbe essere logata qui in un'altra parte F***, sì, bi**ch, lo abbiamo fatto! Ok, recuperiamo il DNA e l'abbiamo fatto Ok, ok, sono bene, facciamo... facciamo un nipple Nooo, non tagliargli un capezzo, che schifo Ma porca Non volevo sapere questo dettaglio Ehi Ellen, non c'è più Se ne è già andata Vabbè Ce l'abbiamo fatta Ok, consegniamo il DNA E' bello vedere che andate d'accordo E' bene Credo che abbiamo scoperto gli nervi optiche prima Ma no, poverino Allora, tutto ciò che può dire è il suo nome? Questo è triste Ecco, tutto ciò che ha fatto era perfetto Può scoprire Può scoprire Può pensare Può chiedere Può chiedere Può chiedere Può chiedere Questo è veramente il suo nome E' vero Però lui dovrebbe essere la pistola più forte Ci servirà Ci servirà per la missione finale A questo punto Credo E' ragazzi Direi che oggi abbiamo fatto abbastanza Ci fermiamo qui La prossima volta ci imbarcheremo in questa Penso Missione finale Con questa mega arma Che non so se riuscirò ad utilizzare senza ridere Non so che giorno lo riporto Sicuramente in seconda serata Una delle prossime live E Niente Detto questo Ci vediamo domani alle 20.30 Con la prossima live Vi saluto E vi auguro una buona notte a tutti Ciao ragazzi A domani